Edoardo Garrone, presidente di ERG, azienda che opera nel settore delle rinnovabili, vento e sole, presente in Italia da 85 anni, ci siamo trasformati da azienda petrolifera ad azienda che produce energia rinnovabile pura, oggi siamo in nove paesi europei e anche negli Stati Uniti, quindi un'azienda italiana che ha saputo trasformarsi con l'obiettivo di contribuire alla decarbonizzazione, azienda sostenibile e soprattutto un'azienda che si pone di fronte a una sfida globale complessa che è quella della transizione energetica che ha degli obiettivi alti ma che fatichiamo a raggiungere per una serie di complessità anche amministrative e questo è un po' il tema che cercherò di mettere in evidenza oggi, almeno dal mio punto di vista. Il secondo tema è la relazione con i territori, con la gente, con le nuove generazioni, con i talenti che è fondamentale per garantire a tutti un futuro migliore.